Un calciatore Davide Moscardelli in forza alla squadra del Lecce come testimonial per un romanzo dedicato appunto al mondo del calcio. Il protagonista di solo come in area di rigore di Luca Leone, in arte John Do, a Lecce nella Feltrinelli, è portoghese con una carriera insolita. Davvero un fan prodige para un calcio di rigore a un Rui Costa bambino, ma la sua vera occasione arriva a 42 anni come terzo portiere del Benfica. Grazie a lui la squadra arriverà al traguardo più ambito la Coppa dei Campioni, ma l'ascesa nel mondo delle star corrisponde alla discesa vertiginosa della sua vita. Perde moglie, denaro e pensa anche al suicidio. Una persona abituata a fare sempre la stessa cosa per tanto tempo si ritrova poi a vivere la vita reale senza avere conoscenza della vita reale.